Da sabato 20 a domenica 28 novembre si svolgerà la seconda edizione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, manifestazione organizzata dal comune di Venaria Reale con la provincia di Torino e promossa dall'Unione Europea. La riduzione dei rifiuti è una partita che il cittadino non può perdere. Nei piccoli gesti quotidiani si cela spesso la possibilità di fare scelte ecocompatibili o meno dannose per l'ambiente. Pensiamo ad esempio nella fase d'acquisto alla scelta di prodotti con meno imballaggi e dal concetto di riuso da decenni abbandonato a fronte di un facile consumo. Ridurre le quantità di scarti non solo è possibile ma è necessario farlo in un'ottica di conservazione attenta del territorio. Le iniziative sono tante, si svolgeranno inizieranno appunto il 20 con questo concerto No Mob Trash che sarà un concerto di percussioni che si svolgerà al centro Iqbal dove alle 11 in tutta Europa tutte le città che hanno aderito a questa iniziativa di settimana europea di riduzione dei rifiuti inizieranno questi concerti. Quindi anche un modo simbolico per legare tutte le città che hanno aderito a questa iniziativa. Vi sarà inoltre l'esposizione e un mercatino di scambio e riuso a cura della cooperativa Il Margine ed una proiezione di cortometraggi proposta da Cinema Ambiente. Domenica 21 dalle ore 14 e 30 al parco Salvo d'Acquisto si potrà assistere alla presentazione di ricette per l'uso e il riuso degli alimenti proposta dall'associazione Uni3. La stessa associazione propone Facciamo la spesa con arte, laboratorio di pittura dei sacchetti di stoffa portati dai cittadini. Freebike invece si mette a disposizione per Tiriparo la gomma, riparazione di camere d'aria delle biciclette portate dai cittadini. Distribuzione di latte crudo a cura della cascina La Magnolia. Mercoledì 24 presso il mercato di Piazza De Gasperi viene riproposta la presentazione di ricette per l'uso e il riuso degli alimenti, questa volta presentate dagli studenti del Formont. In ultimo giovedì 25 novembre presso il Super Cinema, Cineforum a favore degli studenti con proiezione di filmati a tema. Ridurre il rifiuto a monte, senza dimenticarci ovviamente la raccolta differenziata che deve essere un qualcosa che tutti i cittadini, tutti noi dobbiamo assolutamente tener conto perché è importante cercare di aumentare la raccolta differenziata sempre di più ovviamente. Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni cittadine, a tutti quelli che contribuiranno a questa iniziativa. Un ringraziamento anche a Cinema Ambiente perché ci saranno anche dei film, proprio dei film che parleranno di rifiuti in maniera ovviamente educativa che si rivolgeranno alle scuole e con anche degli esperti che spiegheranno le questioni. Quindi un grazie alla partecipazione da parte della cittadinanza, degli studenti e a tutte le associazioni che parteciperanno a questa iniziativa. Grazie. 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 Grazie.